Taccone, Donnarumma, è stato già preso dalla Juventus. Secondo l'ex Juve Taccone, il giovane portierone è destinato a Torino, anche se ha baciato la maglia milanista nell'ultima gara allo Stadium. Oggi comandano i soldi. Stefano Taccone, ha parlato del match di venerdì scorso allo Stadium e dell'estremo difensore rosso-nero Donnarumma. La polemica. Stefano Taccone, ex portiere della Juventus, con la quale ha disputato 254 presenze, ha parlato ai necrofoni di tutto mercato web radio. Ecco le sue dichiarazioni. Sono d'accordo con Boscov, rigore è quando arbitro fischia. Le polemiche nei riguardi della Juve sono queste, il problema è che psicologicamente sta distruggendo tutti. Ne vanno fieri e godono. Quando ero alla Juve, ricordo che si sperava di avere un rigore al 902 così il giorno dopo ne parlavano tutti. I bianconeri sono micidiali, dopo il 2006 c'è un odio contro tutti e lo stanno dimostrando adesso. È normale che una squadra che vince sia odiata, il 50% è Juventino e l'altra metà odia la Juve. Su Donnarumma. Lui è già della Juve, non lo sa nessuno ma è già bianconero. Ha baciato la maglia del Milan? Ma cosa se ne frega di quella maglia? Oggi c'è il dio denaro, comandano i soldi. Raiola fa spesso i bagagli, quando decide chiude la valigia e dice andiamo. Donnarumma firmerà il rinnovo, ma i contratti non contano più nulla. Il popolo rosso-nero è infuriato e si sfoga sul web, mentre quello bianconero già gongola. Il popolo rosso-nero è infuriato.